Stavamo uscendo dalla pandemia, è arrivata la guerra, naturalmente oltre all'impatto politico, umano, soprattutto alle vittime e quello che sta accadendo lì, c'è anche un impatto economico che influenza e pesa sui nostri conti, pesa sull'economia mondiale e lo pesa in maniera importante. Di questo bisogna tenere conto di Unundef che comunque punta alla crescita, allo sviluppo e al reddito delle famiglie e delle imprese. Il governo sta facendo la sua parte, sostenendo i finanziamenti accanto a quelli del PNRR per rilanciare l'economia e per far ripartire l'Italia.